Vi piacciono i programmi di video editing o vorreste imparare ad utilizzarne uno? Ciao a tutti, sono Franco Versa, un videomaker professionista da oltre 30 anni. Ho creato un corso per DaVinci Resolve 16, un programma di montaggio video che non ha uguali. Potete scaricare gratuitamente DaVinci Resolve e seguire finalmente un corso gratuito. Il mio sono 16 lezioni su DaVinci Resolve tratte da una guida ufficiale della Black Magic Design, l'azienda che produce il software. Vi aspetto numerosi, anche perché potrete trovare tantissimi video inerenti altri programmi di videoproduzione e computer grafica. Grazie, vi aspetto! Grazie!